Ricordare chi non c'è più, strappato all'amore dei propri cari a causa del Covid e al tempo stesso permettere al paese di riprendersi di uno spazio antico nel quale da anni è solo la natura a far da padrona. E questo è l'obiettivo del progetto del Sentiero del Respiro promosso dal Comune di Berlingo e che verrà inserito nel programma della sesta edizione del Festival Carta della Terra. Questo progetto è intitolato al Sentiero del Respiro, un progetto che coltiviamo da qualche mese, anzi per la precisione dall'ottobre dello scorso anno quando abbiamo deliberato questa denominazione. Questo è un percorso che andremo a recuperare, recupereremo un antico percorso napoleonico che collegava gli abitati di Berlinghetto a Berlingo. Sono circa 800 metri in campagna, qui si può vedere una parte di quello che potrà essere il percorso, naturalmente sarà molto più ampio e molto più importante. È chiaro che abbiamo pensato di fare questa operazione soprattutto a memoria, a perenne memoria di tutte le vittime del Covid-19. Berlingo ha partito, come tanti altri paesi della provincia di Brescia, della provincia di Bergamo, ma soprattutto italiani, ha partito le vittime di questa sciagura che ci ha investito l'anno scorso. Noi abbiamo avuto sei decessi per Covid-19 e ricordo anche una nostra concittadina che pur non più non essendo residente era nativa di Berlingo e quindi abbiamo avuto sette vittime di questa pandemia. Il sentiero del respiro significa proprio questo, ricordarci di chi ci ha lasciato proprio perché è mancato loro il respiro. Quindi era a mio avviso il significato migliore, il modo migliore per ricordare perennemente loro, ma soprattutto anche riportare in vita un percorso che i nostri avi percorrevano. E quindi c'è questo firrush che lega comunque i ricordi e la nostra tradizione e cultura.